No, allora, perché io comunque il racconto voglio continuare a farlo, perché in realtà stare dentro qui, a dià poi del divertimento, è una cosa difficile. Io adesso non ho mai fatto domande sulla propria vita personale, però immagino che ognuno di voi avrà un fidanzato, dei genitori, chi magari un marito, una moglie e quant'altro, no? Allora comincio a domandarlo a te. Tu la sera, per esempio, chiami casa, parli con qualcuno, hai un fidanzato? Io a casa ho innanzitutto mio figlio, che adesso è a casa di amici, perché mio marito torna comunque tardi al lavoro, per cui io non lo vedo da due giorni e non vedo l'ora di vederlo domani, ecco, per cui lui sia autonomo. Ecco, perché, insomma, secondo me è importante anche far conoscere queste cose, no? Perché siccome la società dello spettacolo si dimentica, perché voi siete, come dire, un problema, siete, non è bello raccontare di voi, no? Per cui è più facile dimenticarsi di voi, quindi quasi nessuno poi alla fine, magari un trafiletto, poi tanti saluti. Raffaella, visto che tu sei, allora, quindi poi diciamo ci sono due persone tra le altre che sono riconosciute come quelle che si espungono un pochino di più. Una è Raffaella e l'altra è Michela. Allora, Raffaella, tu oggi per esempio hai fatto un intervento con vicino il segretario della FIOM Landini. Dimmi sinceramente che cosa hai provato prima, durante e dopo. Ma rabbia. Rabbia perché vivi in un paese in cui ormai nessuno più ti ascolta, perché chiaramente ci sono tante lotte, ovviamente tante lotte da ascoltare, tanta gente disperata, quindi difficilmente riesci a calarti in un contesto che non è tuo. Per cui la lotta dei precari della città metropolitana in questo momento probabilmente non è più importante della lotta dei precari del comune, della lotta dei migranti, della lotta dei disoccupati e di tante altre lotte. Però poi noi giornalmente la viviamo. Ad esempio io oggi ho ricevuto una telefonata dal mio direttore che mi pregava di andare in ufficio lunedì mattina, almeno per un paio d'ore, per le conferenze di servizi che noi gestiamo ogni settimana, perché in città metropolitana non esistono tecnici ambientali a tempo indeterminato. Per cui, come dire, a fronte di questo, poi nessuno mi riconosce un posto di lavoro a tempo indeterminato. E tra l'altro, scusami, noi siamo a Milano da ormai 15 giorni sotto attacco ambientale, nel senso che siccome non piove, noi ci troviamo con le polveri sottili che hanno superato da molto tempo il livello di guardia. Quindi voglio dire, il vostro, il tuo in questo caso, ma anche quello delle tue colleghe, sono ruoli importanti e non se li fila nessuno. Esattamente. Io nello specifico rilascio autorizzazione alle emissioni in atmosfera e soprattutto le imprese che esercitano su territorio milanese e provincia non possono esercire senza il rilascio di queste autorizzazioni. Per cui, non so, probabilmente dal 1 gennaio 2016 nessuno più sarà in grado di rilasciare queste autorizzazioni, per cui le ditte o chiudono o eserciranno senza autorizzazioni, non so.